Una serpentina praticamente, vai di avanti, è finita la scena, no no è appena cominciata, sta filmando, no ma è bellissima, si è bella, poi la fila colorata sul grigio, con i caschetti poi anche, si, sta per dire, bella lì, ah ma è il filmino? Eh si è, è il primo piano di, che è in Milano, è in Milano, 2012 Prenta, Prenta, eccoci qua, bella, bella lì, bella, bella, fantastico, non è venuto bene, ritorniamo indietro ragazzi, arriviamo, tornate su, su, Jack si gira, io mi ha fotografato mentre mi soffiavo il naso, nonostante tutto siamo umani, poi c'è anche il sole adesso, ma pensa a te, il sole, mi fermo, il guidino, si è fotografico, è arrivato anche il guidino, il sole, Diciamo anche dove siamo, il sentiero, sentiero vidi, e non vidi, vidi poco per la nebbia, gira anche a te, così vedi anche te, la regista del film, la regista, manca lui, ok, adesso la regista del film, Ciao, te la devo lasciare a te perché se no, facciamo questo esperimento, la regista del film, wow!